La Cantarelli, la storica azienda Tessile Aretina, resta in affitto ai bulgari. Il Tribunale di Arezzo ha infatti rigettato la richiesta di revoca dell'aggiudicazione presentata dall'accordata guidata dall'imprenditore fiorentino Anton Giulio Pacenti. I ricorrenti avevano sollevato alcune presunte irregolarità. La Toc Fashion, la giudicadaria, ritiene che essa stessa esista giuridicamente, mentre la curatela fallimentare ha fatto altre eccezioni inerenti però non aspetti relativi alle repliche delle nostre eccezioni. Quindi l'aspetto sostanziale che è stato puntualizzato prima di procedere nello sviluppo del presente reclamo è solo ed esclusivamente, preliminarmente, la verifica delle costituzioni e dell'ammissione delle richieste istruttorie da noi fatte. Dunque, secondo i giudici del Tribunale di Arezzo, la procedura e gli atti che hanno assegnato l'azienda, la Toc Fashion, sono legittimi. Adesso potrà continuare ad operare sullo stabilimento di Terontola. L'assegnazione risale allo scorso dicembre, quando l'accordata bulgara si era aggiudicata il marchio e lo stabilimento delle Accantarelli, dichiarata fallita nel maggio 2018. La Toc Fashion se l'era giudicata dopo un'offerta che prevedeva il pagamento di un affitto di 5.000 euro al mese per la fabbrica, oltre 340.000 euro per l'acquisto dei capi invenduti e dei tessuti e per l'utilizzo del marchio, versando il 5% per ogni capo alla procedura. Nessuna garanzia, invece, ancora ad oggi è stata fornita per quanto riguarda la riassunzione del personale. Prima del fallimento l'azienda Aretina contava circa 250 dipendenti.